Il presidente della regione Veneto Luca Zai ha reso noto di aver letto le relazioni uscite dagli ospedali di San Bonifacio e Bassano che inquadrano i casi delle due donne morte per complicazioni legate alla gravidanza. Due vicende terribili che hanno visto quattro vite spezzate e sulle quali è necessario fare chiarezza. Ci sono due fatti tragici, ci sono delle relazioni dei medici assolutamente dettagliate rispetto alle cure e tutti gli aspetti clinici che sono stati monitorati e assolutamente bisogna fare chiarezza fino in fondo nel rispetto delle famiglie, di chi ha perso la vita e anche di chi ha lavorato, dei medici che erano presenti. Senza enfatizzare in questa fase e quindi chiunque volesse controllare la magistratura piuttosto che gli ispettori che vengono da fuori sanno che hanno tutte le porte aperte e le carte a disposizione. Nell'incontro con la stampa il Presidente Veneto ha parlato anche della riforma sanitaria iniziata con la nomina la scorsa settimana dei nuovi direttori generali. Ecco le priorità del cambiamento sanitario sul territorio. Siamo passati da 21 direttori a 9 direttori e ci aspetta da fine gennaio a febbraio, a inizio febbraio, la nuova riforma, quindi le us provinciali da un lato e dall'altro ovviamente il tema dell'azienda zero. L'avevamo promesso, è un impegno elettorale, ci ha scritto in un programma che ho depositato in corte d'appello.